Nelle prossime episodi di Endless Love, Nihan avrà l'occasione di dire a Kemal che il suo matrimonio con Emir non è per amore. Lei spiegherà di essere stata obbligata a sposarsi, ma non Ghili dirà il vero motivo, perché ha paura che Emir possa fare del male a Kemal, intanto Kemal inizierà a capire che Nihan non è felice. Perché Nihan pensa che Emir possa far del male a Kemal? Dopo aver passato un pomeriggio insieme ai bambini in un centro di volontariato, Nihan e Kemal troveranno il momento per parlare. Ultimamente le cose sono diventate difficili. Emir ha sospettato che C.I. sia qualcosa tra di loro e ha iniziato a farli seguire. La situazione è peggiorata quando Kemal ha comprato una casa vicino alla famiglia di Nihan. Emir ha amminacciato di fare del male non solo a Kemal, ma anche ai suoi cari. Preoccupata, Nihan ha chiesto a Leila di avvertire Kemal, ma presto i due si confronteranno direttamente. Nihan ha paura che Emir possa sfruttare Zeynep. Nihan confiderà a Kemal di essere spaventata, perché Emir potrebbe seguirli e intercettare le sue chiamate. Cercherà di mettere in guardia Kemal anche riguardo a sua sorella Zeynep, temendo che Emir possa farle del male. Kemal, però, è determinato a non lasciarsi intimidire da Emir. Non permetterò che faccia del male alla mia famiglia. Non ho paura di lui, né di nessun altro. Se necessario, sono pronto a morire per loro. La confessione di Nihan? Tuttavia, Nihan lo supplicherà di evitare ulteriori conflitti con Emir per non peggiorare le cose. Kemal inizierà a sospettare che Emir stia costringendo Nihan a fare qualcosa contro la sua volontà. Sebbene Nihan non ammetta nulla, Kemal capirà che lei, Ghilia, ha nascosto qualcosa. Sono stata costretta a sposare Emir? Le parole di Nihan lasceranno Kemal senza parole. In un momento carico di tensione emotiva e sotto il peso di sguardi che trasmettono più parole di quante ne possano pronunciare, Kemal, con una voce che tradisce la preoccupazione profonda e un accenno di disperazione, interpellerà Nihan con una domanda che gli brucia l'anima. Perché hai scelto di sposare qualcuno che non ami? Questa interrogazione, semplice ma estremamente complessa, aprirà una voragine di sentimenti non detti e segreti celati. Nihan, sentendosi messa all'angolo da questa domanda, intravedrà un'opportunità per testare la profondità della percezione di Kemal nei confronti dei suoi sentimenti veri, quasi sfidandolo con una contradomanda carica di sfumature. Da cosa deduci che non amo Emir? Le sue parole, leggere come il soffio del vento, ma cariche di significati nascosti, cercheranno di sondare il terreno, di capire fino a che punto Kemal sia in grado di leggere i segreti celati nel profondo dei suoi occhi. Kemal, con un tono che rivela una certezza forgiata nelle molte ore passate a contemplare il volto di Nihan, risponderà con una semplicità disarmante, ma con una profondità che taglia l'aria come una lama. Lo vedo dai tuoi occhi». Queste parole, cariche di un'intuizione affinata da un legame inespresso ma profondamente sentito, mostreranno quanto profondamente egli sia in sintonia con le emozioni di Nihan, capace di leggere tra le linee di un volto che ha imparato a conoscere meglio di qualsiasi altro. Spinta in un angolo dalle proprie emozioni e dal desiderio di proteggere Kemal dalle oscure minacce di Emir, Nihan si troverà a dover navigare le acque tumultuose dei suoi sentimenti. Ricordando le minacce velate e non di Emir, che come spade di Damocle pendono sul suo futuro e su quello delle persone che ama, Nihan si ritroverà di fronte a una scelta dolorosa. Con la voce che le tremerà leggermente, quasi come se ogni parola fosse un passo su un terreno minato, dirà a Kemal che, anche se le sue labbra dovessero confessare ogni segreto e ogni angolo oscuro del suo matrimonio forzato con Emir, tali rivelazioni non potrebbero mai cancellare né modificare il passato che hanno condiviso. Questa ammissione, carica di una tristezza profonda e di un senso di inevitabilità, sarà un momento cruciale nella loro conversazione. Rivelerà non solo la profondità del sacrificio di Nihan, ma anche il suo desiderio disperato di proteggere Kemal, anche a costo della propria felicità. La sua decisione di nascondere la verità, di tenere Kemal all'oscuro delle verità più oscure che tinge il suo matrimonio con Emir, è un atto di amore nel suo senso più tragico e puro. In questo scambio, ricco di non detti e di emozioni palpabili, si svelerà il vero cuore del loro legame, un intreccio complesso di amore, sacrificio e segreti che forse non vedranno mai la luce del giorno, ma che continueranno a definire la loro storia congiunta. In un momento pieno di emozioni e con l'aria carica di tensione, Kemal, guardando negli occhi Nihan con un misto di preoccupazione e curiosità, le farà una domanda molto diretta e personale. Lui, con un tono dolce ma serio, le chiederà «Sei infelice?». Questa domanda, semplice ma carica di significato, sembrerà fluttuare nell'aria per qualche istante, mentre Nihan cerca le parole giuste per rispondere. Dopo un breve momento di esitazione, in cui sembrerà che Nihan stia cercando di leggere nel proprio cuore la risposta più onesta, lei finalmente parlerà. Con una voce leggermente tremante, che rivela la sua vulnerabilità e la profondità dei suoi sentimenti, Nihan dirà a Kemal che sta cercando di trovare la felicità dentro di sé. «Non mi aspetto che Emir me la dia», confesserà con una sincerità disarmante. Queste parole, semplici ma potenti, apriranno una finestra sul suo mondo interiore, mostrando a Kemal e a noi che Nihan è una persona che, nonostante le circostanze difficili in cui si trova, non si arrende alla tristezza o alla disperazione. Questa ammissione di Nihan non sarà solo una dichiarazione sulla sua situazione con Emir, ma anche un'affermazione di forza e indipendenza. Lei, in quel momento, sembrerà dire che, nonostante tutto ciò che ha dovuto sopportare a causa del suo matrimonio forzato e delle pressioni che Emir le mette, non si lascerà abbattere. La sua determinazione a cercare la felicità da sola, senza aspettarsi niente da Emir, sarà un segnale chiaro della sua forza interiore e della sua capacità di sperare in un futuro migliore, anche nelle circostanze più buie. Kemal, ascoltando queste parole, potrà solo ammirare il coraggio e la resilienza di Nihan. La sua risposta gliderà molto su cui riflettere, non solo riguardo alla situazione complicata in cui entrambi si trovano, ma anche sulla forza del carattere di Nihan. Questo momento di condivisione tra loro diventerà un punto di svolta, rafforzando il loro legame e la loro comprensione reciproca. La conversazione, pur rimanendo su un piano molto personale e emotivo, sarà anche un esempio di come, anche nei momenti più difficili, le persone possano trovare dentro di sé la forza e il coraggio di andare avanti, di non lasciarsi sopraffare dalle circostanze esterne e di cercare la propria felicità, anche quando sembra che tutto intorno a loro sia contro. Ti sta piacendo Endless Love? Scrivicelo nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni su Endless Love.